volevo fare anche questo inserto che ho visto quella registrazione di quella che si è tagliata la lingua in due, la lingua bifurcuta e poi che fa quelle porcherie sulle tele e poi dipinge le tele e le vende, questa è una cosa satanica, questo è satanismo e io invece che dipingo metto l'acqua benedetta sulle tele. Signora Anna Maria Giotta che dice che la signorina che è venuta qui ospita la settimana scorsa con la lingua bifurcuta è ispirata da Satana, no, posso dire alla signora Giotta che non c'è alcun Satana che influisce sulle cose del mondo, voi siete fissati su questa cosa del satanismo io non sopporto la parola satanismo ormai, non la sopporto più, non la sopporto più, Gilberto dalla provincia di Milano che vuole parlare di bordelli, se non sbaglio, vero Gilberto? Satanismo, Schwab, Bill Gates, Soros sono nostre produzioni, nostre produzioni però, nostro copyright c'è intorno a queste discussioni Gilberto, nostro, tuo malgrado è nostro e vedrai come ti trasformerò quel festival di Trento dell'economia tu vedrai come ti trasformerò quella grande Kermess sarà un momento indimenticabile, indimenticabile, indimenticabile io questo temo Gilberto dalla provincia di Milano, vai Gilberto, dimmi Gilberto, dimmi Gilberto, dimmi Gilberto, dimmi Gilberto, dimmi Gilberto